Gabriele Colombatti, nuovo acquisto del Corigliano, quale sensazione in questo primo giorno di allenamento qui a Corigliano? Contento, contento anzitutto di essere qui, consapevole della situazione che sta vivendo il Corigliano, però è un grande desafio, è un grande desafio individuale, anche gruppale, per fare bene e uscire di questi Corigliano che mi hanno parlato bene, ha avuto una transizione negativa, però penso che negli anni scorsi ha fatto bene e per quello sono venuto qua. Conosci bene il girone, perché viene dal Giuliano, che idea ti sei fatto invece di questo campionato fino a questo punto? Questo girone l'ho giocato il primo anno che sono arrivato in Italia, nella Palmese, è un girone tosto, un girone che fuori casa si fa difficile, però penso che è un girone anche che può fare punti se stiamo bene con la testa, se fa una buona squadra, i ragazzi continuano a lottare così, quelli che sono rimasti penso che possiamo farci. Cosa ti senti dire alla piazza, visto che domenica c'è anche un derby tra l'altro contro il Castrovilla? Niente, che darò il tutto, darò il massimo per uscire da questa situazione e speriamo subito domenica iniziare a vincere.